Ecco il nostro Max che porta la nuova malgacciona topolona nella legnaia, nella legnaia. Ecco qua, la porta in un posto più romantico, vedete, abbandona il parcheggio di cimitero perché è nuova, è nuova questa. Vedete che la porta nella legnaia e vedete, vedete che è bello, che è bello. Quale, quale passione al nostro Max con la malgacciona topolona nella legnaia, nella legnaia. Vedete che acrobazie erotiche che fa il nostro grande Max, bravo Max.